Alla fine è arrivata la logica conclusione ovvero l'indignazione collettiva bipartisan per dirla in politichese e le dimissioni del consigliere comunale di maggioranza al comune di Giulianova Simone Paesani che nella giornata di ieri si è reso protagonista di vilipendio del 25 aprile festa della liberazione commentando un post su facebook di Antonio Macera. Il testo potete leggerlo chiaramente voi stessi. Viviamo in una fase storica in cui il sentimento della vergogna è stato completamente cancellato dal nostro sistema emotivo mischiato anche a deliri di onnipotenza con un ego gonfiato a dismisura fino all'estremo che causa questi episodi compiuti da chi secondo l'articolo 54 della costituzione ha il dovere di adempiere le funzioni pubbliche che gli sono state affidate con discipline e onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Troppo facile però adesso cadere nella retorica del 25 aprile e puntare il dito solo contro un singolo che fatti alla mano ha dimostrato tutta la sua mancanza di rispetto, la sua arroganza, la sua ignoranza e la sua maleducazione. Troppo semplice soffermarsi sul dito e non sulla luna indicata. Ciò che dobbiamo domandarci è perché questa persona sia arrivata ad occupare un ruolo pubblico in un consiglio comunale. Si risponderà per volere popolare tramite democratiche elezioni e quindi ancora di più la riflessione cade su noi stessi sul perché affidiamo a certi soggetti la nostra rappresentanza invece di non considerarli. Un ragionamento rivolto anche e soprattutto ai vertici, ai primi cittadini e agli assessori perché bisogna ragionare a 360 gradi soprattutto sulle politiche che un'amministrazione intraprende quotidianamente, sulle parole dette e scritte da chi occupa ruoli istituzionali, sui fatti e non solo su questi singoli episodi. Il fascismo inteso non come quello storico ma come subdo lo stato d'animo, come modo distorto di vedere la vita è sempre lì, pronto ad emergere all'interno della natura umana. Sta a tutti noi il compito di smascherarlo e contrastarlo quotidianamente non solo in occasione del 25 aprile perché citando Cesare Pavese chi lascia fare s'accontenta è già un fascista.